Arezzo nascosta ha fatto tappa in biblioteca, è stata infatti la biblioteca città di Arezzo ad ospitare la rassegna di musica da camera organizzata da Oida, itinerante in città, in luoghi storici e culturali ma anche in fabbriche ed industrie. Tutti i concerti sono preceduti da una visita, quindi sia degli aziende che dei luoghi storici come questo e siamo al terzo appuntamento, possiamo già dire che siamo molto felici di come sta andando, abbiamo avuto una risposta veramente di grande entusiasmo da parte del pubblico. Nella sala delle conferenze della biblioteca è stata la volta del quartetto Oida, formato dalle prime parti dell'orchestra instabile di Arezzo. Ad aprire il concerto invece i giovani studenti della secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Dolizzi di Bibbiena. La stagione di musica da camera di Oida proseguirà in location sempre diverse e a volte davvero inusuali. Ricordo il prossimo appuntamento che si terrà nell'azienda di Alterini, un quartetto Petrarca che sono quattro ragazzi del liceo musicale. Grazie a tutti.